Buongiorno ragazzi, oggi siamo su GTA V Online perché come avete letto dal titolo andiamo a modificare questo splendore di auto che mi manca ancora da andare a modificare e a customizzare all'ennesima potenza. Sto parlando della Mazda RX3, ovvero su GTA si chiama la Anis Savestra. La potete trovare su Legendary Motorsport e ha un prezzo di 990.000 dollari. Facciamo il test sound di questo mezzo. Porca va combo la raga che sound! Non male, niente niente male. Siete carichi ragazzi perché fra circa 20 giorni mi pare abbiamo la nuova rapina, la nuova mappa su GTA e io vi porterò tutti quanti i contenuti qua su YouTube e in diretta sul mio canale Viola. Andiamo subito a modificare il mezzo. Adesso forse avete capito perché ho comprato quel magazzino perché siamo non vicini di più allo Santos Custom. Armature 40%, freni da gara e questo qui è il primo video raga dove andiamo a modificare un'auto sulla PlayStation 5. Quindi supporto, like, commenti, ditemi un po' come l'avete fatta voi questa macchina se ce l'avete o meno. Adesso andiamo a divertirci con Splitter colore 1, colore 2, leggero, il normale leggero. Poi abbiamo questo qua rimosso completamente, rimosso senza fori. Il leggero, questo così, questo così, ne abbiamo 13 addirittura. Interessante, questo con addirittura il gancio. Mettiamoci questo qui ragazzi, rimosso con Splitter. Poi andiamo, paraurti posteriore, abbiamo questo leggero, vedete cambia tutto quanto così, quello niente, senza buchi. Il colore 1, il cromato e il toning. Non voglio assolutamente i buchetti dietro così ragazzi. Poi vediamo se ci possono stare o meno. Telaio, abbiamo gabbiozza di sicurezza, interessante, il portapacchi. Portapacchi, la gabbia con il portapacchi, le feritoie leggere chiaramente dietro. Abbiamo quelle colore 1, da gara. Portapacchi e feritoie, oppure darelli che ha tutto. Provo a metterci questo qua da gara così abbiamo tutta quanta la roll cage dentro ragazzi. E abbiamo anche le feritoie però grigette. Quindi vediamo un po'. A me piaceva riuscire ad avere le feritoie colore 1 o colore 2 con anche la gabbia di sicurezza dentro. Però non c'è quindi andiamo con questa option. Poi motori, livello 4. Marmitte, da gara, big board. Ma che schifo, sembra comunque lo schifo, l'assurdo lì. Shakotan, interessante. A doppia uscita. E poi darelli. Direi che darelli ci sta sempre tutto quanto alla perfection. Perché vedere il pezzo lì della marmita catalitica grosso così non è che mi fa schifo. Di più, ok, che è una macchina old school. Potrebbe starci ma non lo so. Parafanghi, sottili. Assolutamente no raga, guardate che roba. Sottili, leggeri, così, così. Questi grossi così, questi arrotondati. Ma che cos'è la macchina di topolino? E poi questi qua. Super ultra mega GT. Questo mezzo lo faremo in due varianti differenti. Quindi per ora i parafanghi li lasciamo original perché sono i più belli. Le griglie. Cromata aperta. Areata. Così, così, così. Poi, 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 poi. Belle queste. Bellissime. Guarda che cattiva questa. Nera comprese d'aria come ultima. Per ora le griglie. Anche queste qua rimangono in stand by. Fino a che non ho cambiato tutta quanta la verniciatura della macchina. E capirò esattamente come fare il muso. Andiamo nei cofani perché abbiamo colore 2. In carbonio. Con prese d'aria. Prese d'aria laterali. Così. E poi con i due turbo. Esposti. Molto aggressivi. Lasciamo tutto in sospeso. E andiamo nella livrea. Perché finalmente abbiamo con la striscia gialla. Tutta quanta torna la macchina. La savestra. Striscia bianca laterale. Dove c'è il guidatore. Poi abbiamo questa della Hannis. Molto tranquilla. Racing. Poi abbiamo la Spenders. L'Olympian. Abbiamo questa qua molto particolare. Abbiamo quest'altra qui. E poi, per finire, la Estancia. Che schifo di livrare, ragazzi. Gli specchi come possono essere fatti? Cromati senza specchietti. Cromati classici molto più vicini. Oppure questi leggeri da questa parte qua. Vedremo, ragazzi. Vedremo. Queste modifiche per ora non mi stanno assolutamente entusiasmando. Il simbolo crew dove va? Sulla portiera. Va bene. Andiamo negli spoiler. Speriamo che qua ci sia qualcosa di interessante. Abbiamo il ducktail basso. Abbiamo lo spoilerino basso. Abbiamo il ducktail alto. Il borchiato. Da strada. Da gara. Colore 1. Il touring. E l'alettone grande. Gli unici che, a mio avviso, possono al limite starci sono o questo basso o, visto che abbiamo le borchie sui parafanghi laterali, ci mettiamo questo qua. Il ducktail borchiato. Così riprende un po' tutta quanta la carrozzeria. Sospensioni. Vabbè, non è che si abbassa di tantissimo, però meglio di niente. Trasmissione a bomba. Poi abbiamo il turbo a bomba. I finestrini. Limousine. Full black. E poi le ruote. Ma adesso, ragazzi, sono passati mesi, quindi avete una carica nel vostro corpo devastante. Aprite la finestra e gridate insieme a me. Scatta la mia magia. Ed eccomi tornato da voi con la prima variante di questa Hannes super ultra mega spettacolare. Full black con gli specchietti in nero opaco. Come vi ho detto prima, i parafanghi li ho lasciati originali. Gommazze devastanti, ragazzi, con l'interno bronzo. E tutto quanto il canale esterno e anche tutto l'interno cromato. Con le scritte Fucaru rosse che riprendono le pinze posteriori, anteriori e le cinture dentro. Il muso, come vedete, ho optato per questa griglia con i fari e ero ben tentato a mettere quella con i quattro bocchettoni d'aria mega galattici. Ma poi, ragazzi, diventa notte e non abbiamo più le luci e ci schiantiamo contro i palazzi. Vi faccio vedere anche dall'altra parte. Non ho messo portapacchi, se no qualcuno si triggerava. Abbiamo sempre sull'unotto posteriore tutte quante le griglie. E i super 2 mega tubazzi dietro che fanno la loro gran bella figura. Molto, molto pulita. Senza luci, senza nulla. Ve la mostro anche alla luce del sole. Perché adesso ci sarà la seconda variante. E voi dovrete dirmi quale preferite. Vedete, abbiamo gli scarichi tutti cromati che riprendono i cerchi. Con le scritte, ripeto, che riprendono le pinze. Il fumo rosso. Primo incidente, perfetto. Bellissima questa macchina, raga. Se qualcuno di voi mi sta chiedendo, Bistard, visto che sei su PlayStation 5, guardate poi che larga. Ma i triggers dietro adattivi, le levette R2 e L2, come ci è spiegato nel video, che sono più duri, eccetera. Funzionano solo con i giochi della Play 5 fatti apposta. Tutti questi giochi della Play 4 portati sulla Play 5, il pad nuovo non funziona. Vibra e basta. Detto tutto ciò, preparatevi perché vi faccio vedere la seconda variante molto più esagerata. Ed eccomi tornato. Questa qui è l'altra variante molto più aggressiva, molto più prorompente. Guardate, senza fare i davanti, ma soltanto con l'aspirazione, turbine che escono fuori dal cofano. Tutto quanto il muso e i passaruota, raga. Vedete che si uniscono tutto quanto davanti nella maniera più perfetta con il gancio traino. Tutte delle minigonne mega galattiche gialla con l'alettone, gli scarichi, li ho lasciati sempre così. E ho voluto tenere anche gli stessi circhi, ma questa volta li abbiamo fatti neri. Andiamo fuori, anche se piove ragazzi, la bellezza di questa macchina non svanisce. Quale delle due varianti preferite? Vedete, il posteriore ce l'abbiamo anche con i buchetti, così riprendono i buchi anche dei passaruota posteriori, con un bel giallo sgargiante, la livrea savestra, che anche prima c'era e si vedeva e non si vedeva sul nero. Questo mi sono dimenticato di farvelo notare. E poi questa qua. Devo dirvi che non mi dispiace nemmeno questa versione un po' più tamarra. Magari gli scarichi, forse avrei messo quegli altri con la marmita catalitica, perché vedete che il pezzo sotto è veramente una sbadilata così e lo scarico non è proprio centrale, ma è più vicino all'interno. Questo qui è il primo mezzo che abbiamo modificato sulla PlayStation 5, io sono veramente orgoglioso. Sia di questo mezzo che dell'altro, ripeto, il posteriore così, raga, non mi convince, però il mezzo, raga, è tanta, tanta roba. Con il fumo giallo, 120, 130, bam! Spero che siate più carichi che mai, perché adesso usciranno tante novità su GTA 5 online. Ditemi tutto quanto, raga, sotto giù nei commenti, non voglio dilungarmi troppo. Quindi, qua da Bistarda è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!